La perdonanza e gli eventi estivi hanno dato tregua ai problemi di ordine pubblico nel centro storico della città, con le risse però che neanche a farla apposta sono riprese subito dopo. Ad ogni modo, a parte questi episodi, la gestione da parte della questura dell'ordine pubblico, soprattutto per perdonanza e gezza, è stata davvero ottimale. La gestione dell'ordine pubblico appunto ha funzionato, considerando le numerose presenze che si sono registrate in una settimana in città tutto liscio, anche un bel biglietto da visita per i turisti. Del resto, come già detto più volte, la città ha funzionato bene anche quando si è trattato di gestire eventi di dimensioni importanti come la visita del Papa e come è stato in queste settimane di eventi, quando il flusso è entrato all'Aquila e è stato notevole a tracciare un bilancio al questore Enrico De Simone. Questa importanza ha richiamato tantissime persone e richiamerà tantissime persone anche l'anno prossimo, per cui noi siamo stati chiamati a organizzare innanzitutto dei servizi di ordine pubblico molto impegnativi perché abbiamo visto un aumento di persone e soprattutto un grande aumento di turisti proprio collegato alla rilevanza che sta assumendo la celebrazione. E poi soprattutto abbiamo fatto anche tutta una serie di servizi preventivi che riguardano la prevenzione contro la microcriminalità che è di tanto in tanto imperversa nel centro aquilano ma che per noi non rappresenta un grande problema perché l'andamento generale dei reati è in continuo calo. C'è questa percezione di insicurezza che però è una percezione molto accentuata rispetto a quello che è la realtà. Sono soltanto dei episodi che riguardano soprattutto minori che però vengono percepiti in maniera molto più rilevante di quello che sono. Le nostre risposte sono immediate perché tutte le volte abbiamo assicurato i responsabili di questi reati di microcriminalità ma anche di disturbo soprattutto alla quiete pubblica. Stamattina intanto l'associazione Ollus L'Aquila per la vita è impegnata a sostenere le attività di ricerca e cliniche dell'Unità Operativa di Oncologia Medica dell'Aquila in particolare per quel che riguarda le terapie di supporto palliative e le cure domiciliari ha donato alla questura otto coppie di piastre ed una batteria per la funzionalità degli otto defibrillatori semiautomatici che contribuiscono alla cardioprotezione del personale e degli utenti afferenti alle strutture di pulizia del territorio provinciale già donati ad aprile del 2022 dall'associazione. La nostra è un'amicizia antica che nasce addirittura con il questore Visone allora quando con una colletta importante il questore unitamente a tutti gli uomini della polizia di stato dell'Aquila donarono all'Aquila per la vita la prima macchina, una smart molto bella che servì ai nostri medici per andare ad assistere i pazienti, i nostri pazienti a casa, direttamente a casa.